Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Non è vero, ci stai ricevendo una palla. No, no, tu hai scelto una. Abbiamo scelto e abbiamo fatto a fin di bene mondiale, della comunità e dell'università. Non è vero, no? E abbiamo fatto. No, è vero, non è forse. Abbiamo scritto perché noi abbiamo due pugnali che abbiamo scelto tutti i giorni. E ci hanno inviato il fondo e abbiamo scritto un libro. Ma come c'è questo libro? Eh, questo libro c'è. Io lo nascondiamo, io lo nascondiamo nel Londra. Non lo so che bene. Lo nascondiamo tre anni fa. Eh, lo so, no, 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 no. Ma noi non l'hanno trovato. Non l'hanno trovato più. Non l'hanno trovato più. Perché quello si scarruvava, tutto si scarruvava la crinica. Comunque... C'è un merito, però... Io lo dico, però... Non è proprio curiosità vostra. Ma non è che questo è un altro per caso che io in coppia ci mi... Si sosteniamo. Non c'è un nervo. Comunque... Si, in coppia proprio la chiesa di Santolongo. Coppia Conventi, che è Santolongo. Comunque... Ma io... Beh, ma io non mi interessa. Ma facciamo contare... Ma facciamo contare... Ma facciamo contare... Però ora vi ad accocca... E non ci pensiamo. Chi? 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 Grazie a tutti! Quando state? Per fortuna che sei stata Per fortuna che sei stata Ma come state? Ma buono Oh 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 Ragazzi Ma chi è qui? Si chiama Bover Proprio Bover Questa è mortissima Ragazzi Ciao Ragazzi Ragazzi a proposito Vi devo raccontare Una storia Ma che c'è da ridere? Anzi è paurosa E allora ridi? Comunque ieri mortissima non riuscivo a dormire E allora siamo usciti giù E nonno gli ha raccontato E nonno gli ha raccontato una storia Era una storia di terrore C'erano i demoni Ora me Ma tu sei venuto? Che storia è merda Ma che cazzo gli sei mai stessa cosa? Ma questo mi fa ridere Ha detto il nonno che ci sta un libro Sopra la Santolongo Ci sono le formule E ci sta... facciamo le necessità dei demoni Andiamo la prima, dai Andiamo andando Tu puoi venire E tu vieni E tuo padre non dice niente Tanto mio padre lo sa Tanto mio padre lo sa Andiamo dai Andiamo dai Vabbè Vabbè Lec tu resti Lec tu resti con noi Lec Giochiamo un po' a una monta in uno Dai Vado io assoluto Dai giochiamo un po' a uno Lec Vai Voglio guardare Lec tu mi due lec Scusa ma ben che senti tanto Facciami il fenio Mi metti la mia ma me Vabbacchiti Vai Mortica, perchè non ti metti loro Vai Vabbacchiti E' un po' a tu Necce la mia Un mondalo Vai docca a te Un mondalo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti